ma ragazzi c'è anche voi? stavo volendo dopo aver preso un caffè ah oggi è 31 ah volevate passare un ultimo l'anno un po' insieme ma non me l'avete detto così ero impreparato non so cosa fare ma ehm oh mio mi fai copione normalmente non improvviso mai aspetta mi prendo un attimo wow ragazzi mi fa un sacco piacere questa cosa però ecco non so che vi potrei far vedere effettivamente ah siccome Alessia mi ha regalato un telefono per Natale che è questo qua e non mi ha un gran che sorpreso mi ha un po' deluso anzi in realtà niente di bellissimo cioè speravo di avere un passaggio avanti molto più di avere un telefono molto più figo ecco la regalata qua che è sotto carica in questa carica wireless qui potremmo provare a farci un video vediamo come registra e vi potrei anche parlare di questa casa di come l'ho costruita di come l'ho disegnata e di come era purtroppo non ho tante immagini perché sono un po' un pirla e non ci avevo pensato però innanzitutto direi di andare a prendere il running ok che ho da qualche parte dove l'ho posata il running vediamo vediamo lo cerchiamo insieme eccolo qua quindi direi di prendere lo smo ok di montarci sopra su l'altro telefono così registriamo con quello e vediamo come registra come fa l'audio e poi freddiamo le nostre conclusioni io spero che questo video sia un po' intrattenente che vi possa piacere ah ovviamente ragazzi vi auguro un buon fine 2020 e un grandissimo nuovo 2021 sperando che porti veramente fortuna anche perché insomma non voglio bufarla andiamo a cambiare 3, 2, 1 cambiamo impostazione ragazzi siamo passati a riprendere invece ora con la telecamera del telefono quindi ora stiamo provando l'audio del telefono e come registra questo telefono stabilizzato dal mio osmo però adesso mi serve un foglietto perché voglio farvi vedere come funziona e come era la casa ora vi ho già preparato qua vedete eccola vi ho già preparato qui eccola qua lo portiamo in cucina perché c'è più luce ok e vi racconto un po' com'era ragazzi allora quando io ho comprato questa casa era abbastanza semplice come abitazioni ok si entrava con delle scale ci poi vedremo ok quindi c'era una rampa di scale esterna per accedere ok c'era poi un piano e rotolo ok che disegnato era così più o meno qui c'era un altro appartamento perché chiamo uno e qui c'era una porta dove si entrava e c'era il mio appartamento 2 che era in realtà un rettangolo così 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 e così e così di a malapena 45 metri quadrati quindi niente praticamente era diviso in questa maniera si entrava c'era ok una porta una porta quindi due porte ok qui c'era una camerina ok la cucina un'altra porta qui c'era il bagno quindi bagno camera e camera 2 ok e la cucina era qua ok e la cucina ok molto piccola poi c'era una terrazzina che era qua ok quindi cosa abbiamo fatto noi abbiamo sentito se il condominio ci dava anche il tetto il solo tetto della casa molto vecchia ci erano dato per fortuna erano persone gentilissime e abbiamo praticamente raso al suolo tutto ok fatto 45 metri quadrati di open space in realtà questa casa l'abbiamo presa così piccola anche perché non avendo un budget enorme siamo concentrati una casa che era all'asta pagata veramente poco all'inizio per poterci investire tanti soldi per farla figa non avevamo bisogno di grandi spazi ma volevo renderlo veramente molto mio e io essendo comunque un artista tra virgolette ovviamente perché comunque faccio spettacoli e ho cercato di renderla il più particolare possibile con dei piccoli cocchi fighi ora ve lo faccio vedere insieme andiamo sulle scale ok ragazzi queste sono le scale che vi ho fatto vedere il disegno ora andiamo nella telecamera per uno ok ci andiamo a spostare verso la porta che è veramente molto particolare purtroppo tengo la luce buia perché così proviamo anche al buio come si comporta questo telefono come vedete qui c'è un tastierino numerico ok in cui è veramente molto poco luminoso aspetta proviamo anche il flash wow molto meglio ora con il flash ok in cui possiamo inserire i codici per entrare la porta è blindata ma si può aprire anche con il badge come vedete adesso io apro e la porta e la porta si apre molto particolare la cosa perché l'entrata è questa questo muro l'abbiamo fatto io ad essere disegnato è un muro in carta di vetro cemento e carta in gesso in cui abbiamo dato un tocco particolare con questi mattoni di vetro cemento un po' particolari perché l'altra cosa che abbiamo realizzato sono stati questi led sotto il soppalco come potete vedere che mi sembrano molto carini fanno un effetto credo particolare zoom un attimo eccolo qua vedete questo era l'effetto che volevo ottenere sto andando indietro l'effetto doveva essere abbastanza carino ma spostiamoci sulla parte della porta ok come vedete ancora c'è da sistemare da finire di verniciare perché la casa è molto fresca abbiamo creato una parte domota della casa con biticino tutta la casa è domotizzata grazie a biticino da qui anche il quadro come potete vedere tutto biticino tutto l'interruttore totalmente in cui questo è il videocitofono con segreteria che collega la porta che mi permette di aprire la porta giù semplicemente con il telefono anche dopo di abbiamo dell'interruttore che vanno ad azionare le prese come biticino e abbiamo una ricarica wireless per il telefono con USB molto carina che gestisce la postazione ok qui sotto poi ci ha realizzato la mia palestra come potete vedere con tutto il mio reparto anche di pesi e pattini in cui tengo lì uno switch secondario che è questo qui sotto per eventualmente le playstation e giochi che non può mai un'alexa gigante che si è illuminata ora che mi serviva per domotizzare la casa abbiamo più di alexe perché abbiamo uno lì ne abbiamo un'altra lassù in cima con il sistema del proiettore esatto perché una cosa mi era sempre segnato da bambino a rifare un proiettore guardate che casino in questi navi devo sistemarli lampade tutte montate da noi per risparmiare un sacco di soldi in questa nera qua ok come potete vedere il telo proietta su un due metri vedete qua eccolo qua molto figo e si vede abbastanza bene come potete vedere qua qui zoom a uno non entrare nell'equatura 1 come potete vedere ok un'altra cosa c'è ora ma un futuro sarà diverso qui c'è un altro tavolo postazione unboxing che adesso è una prova questo tavolo non è il nostro è stato trovato in cui Alessia sta realizzando il puzzle di Fenix questo è un puzzle personalizzato in cui abbiamo Fenix e tutti i miliardi di pezzi da fare gli sono sfatiato ok questo è il divano vabbè è un divano normalissimo niente di che questa è la postazione di Alessia principalmente con il computer che abbiamo portato dal lavoro che poi vi spiegherò perché abbiamo scelto anche un computer dal lavoro portateli invece è fisso questo l'ho fatta io interamente io infatti è molto traballante aspetta vi faccio un po' dettagli perché le gambe dovrebbero riprendere un po' lo sedere le colonne del soppalco vedete l'idea era di riprendere un po' lo sedere le colonne però io non essendo molto bravo e molto pratico nel fare queste cose qua la scrivania traballa non so se rende aspetta vi zoom un po' di più ok come vedete guardate fa un effetto traballio ok perché abbiamo scelto un portatile molto performante perché questo è un Razer 7 con una 2020 mi sembra non vorrei di una bischierata comunque una buonissima scheda video all'interno di computer non c'è visco niente comunque più di 1500 di portatile 1200 mi sembra ho pagato perché quando facevamo spettacolo avevo bisogno di una macchina molto performante carina leggera e un portatile mi faceva comodo in più Alessi ha Photoshop che lavora da sotto mentre magari io lavoro sulla postazione principale su Premiere o su altri programmi il proiettore è attaccato per farci vedere da qua a un Mac Mini si dovrebbe intravedere da sopra che lo comando con un joy più di due volte zoom ancora ok eccolo lì non so se si vede bene la vostra domanda comunque da quel Mac Mini lì così prima anche lo zoom di questo telefono e l'impianto audio lo fa l'altra Alexa che è poi collegato come potete vedere tutto al proiettore che si trova là su in cima ottimo mi sembra abbia un buono zoom come potete vedere ancora la propria industria da cantiere che sorrebbe tutto e potete notare un Ethernet lì numerato perché tutta la casa è cablata veramente bene a livello di Ethernet ok poi abbiamo spostandoci qua la postazione con bene la pallina tale con da finire una menzionina dove ancora finire di fare modem Vodafone e l'entrata del cablaggio che è qua in cui tutta la casa può venire cablata dal monitor allo switch principale superiore questo boiler gigante che avete intravisto qua sopra la seconda pompa di calore la principale è sulla terrazza che gestisce l'acqua calda della casa ho levato il metano non so se ho fatto la scelta più corretta ora vediamo col tempo se questa scelta pagherò o no come potete vedere durante nella casa c'è varie luci per fare riprese e come potete vedere ora zoom un attimo il salone è stato pensato per comunque permettermi di pattinare e di fare delle buone riprese molto grande nonostante la casa sia veramente molto piccola un'altra cosa che vi faccio vedere già qua è la ringhiera assadata a mano e fatta interamente da me che ha due disegni diversi uno è questo qui molto lineare e ora noi ci spostiamo in cucina per dare l'idea di essere una cucina all'americana quindi entro forni sul mobile principale quindi forno microonde stiamato mobile molto ampio poi ruoto come potete vedere e penisola fatta all'americana quindi penisola interna come potete vedere dove si può mangiare quando siamo in quattro persone ci si mangia bene e come potete vedere è molto figa perché abbiamo la cucina sulla penisola eccola qua però se noi ci giriamo abbiamo tutto il periodo di lavoro molto grande in cui possiamo comunque lavorare comunque possiamo cucinare può cucinare a lei senza rossi problemi e comunque ci rimane un sacco di spazio e sembra molto grande la cucina dà un'idea proprio di di cucina molto più grande vi zoom un attimo ok però ecco in realtà la cucina non è grandissima questa è la lampada mi piace un sacco la faccio dire spero che la riesca a mettere a fuoco bene è molto particolare poi abbiamo anche una lampada sulla cucina che è più estetica che altro e va a illuminare l'elica con il piano a induzione e vento ad aspirazione integrata che è questa qua molto molto particolare e molto carina questa è la designata dalla mia italessa quindi se non vi garba commentate con la lei se non sa disegnare le cucine ok un'altra invece tocco di classica ho messo io me lo dico da solo sono stati questi come potete vedere qua bordi di mattinelle avanzate al bagno molto carini qui ma soprattutto veramente molto particolare qua vedete che sono stati messi anche qui che hanno fatto un effetto molto particolare hanno unito il muro in cartongesso ai soppacchi in legno ok veramente molto carina secondo me come potete vedere la casa comunque non è piccola perché guardate a parte il motion è orribile ma avevo dato il cencio comunque sia sono in fondo alla casa a uno e questo ecco zoom al massimo comunque è abbastanza grande come casa e questa è invece con la fotocamera con il grandangolo ok camminiamo ancora per andare a vedere invece la parte delle scale la ringhiera delle scale è stata la cosa più complicata da realizzare a livello di design perché come potete vedere le scale sono illuminate quindi ogni scala ha un led non vi dico io la fatica per farlo perché avevo pensato a questo effetto ma non avevo calcolato la fatta che ci doveva passare i fili sotto i led quindi poi ho dovuto trovare il modo per farci passare il filo non facilissimo che cosa ma soprattutto come potete vedere non è stato facile neanche realizzare questo c'era illuminato neanche realizzare dove ho messo i pali far uscire il palo in ferro e inserire il gradino ho dovuto allargare il foro per farlo scentare stato un inferno la ringhiera è stata saldata totalmente al mano ah già mi dimentico una cosa aspettate questo è il disegno della ringhiera come vi ho fatto vedere prima della sala e aspettateci spostiamo ora nel mezzo al casino questo è il disegno invece della ringhiera che abbiamo su che è molto più particolare come potete vedere c'è dello spazio vuoto la ringhiera è sospita tra virgolette ed era una cosa abbastanza carina vediamo se ha 5-6 di centimenti disegni mi sembra di sì però lo zoom non è male questo telefono fallo un po' però dai poteva andare peggio vedete li si vede ancora le saldature è brutto quella saldatura ok saliamo le scale dai ok stiamo salendo le scale per andare sulla camera come potete vedere qui ci registro altri video questa è la camera questo è l'effetto della camera questa è la vista che ho creato all'americana con ovviamente la vista dall'alto verso il soggiorno potete vedere una cosa molto molto particolare l'altra cosa abbastanza particolare è invece la vista che ho sulla cucina che anche quella è molto molto carina molto particolare ok che l'ho qua come potete vedere io mi affaccio e vedo tutta la cucina una cosa veramente particolare è un po' inusuale sulle case almeno normali o generiche accendo un attimo la luce ok vi faccio vedere la seconda postazione fatta da me completo il tavolo l'ho fatto io proprio il tavolo che è triangolare l'abbiamo realizzato con le stesse le tavole del suo palco e abbiamo realizzato il computer il computer è abbastanza buono questo l'ho fatto proprio prima inizia la quarantena quando lavoravo a pieni ritmi quindi ho detto volevo investire sul canale e purtroppo è stata una spesa grossa perché si parla di 2000 euro di computer con una un'amd un riser 9 una 2070 di schede a video e comunque se deve arrivare un terzo monitor per fare comunque tutta l'editing del computer il computer va veramente forte ma la cosa interessante per più smanettoni intanto guardate che chicca sono ho messo a design i patini anche come guardate carine queste prese in legno rispetto a quelle normali che ho giù perché costavano troppo metterne troppo è tutto per questo occasione di fili che ho messo qua sotto in cui se potete vedere tutta la casa è domotizzata a fibra per avere la massa performance dal modem principale che è il cavo giallo arriva a questo switch che poi distribuisce internet cablata in tutta casa o internet in ogni angolo di casa posso avere internet per il tipo chip per collegare le prese come potete vedere usb normale se la casa è veramente cablata bene ho un'altra playstation qualche fa da soprammobile perché non la uso mai ok e niente ecco un po' questo è un po' la postazione che avete nei video come è stata realizzata e comunque realizzato casa e niente ragazzi direi adesso di tornare alla telecamera principale e io vi saluto ho detto un po' tutto a parte la domota di casa ma non penso che mi interessa sapere che ovviamente tutta la casa è domotizzata come potete vedere come potete vedere io posso scegliere la tapparella abbasso la tapparella posso spengere luce scala come potete vedere accende luce scala la camera posso spenderla e accende la stessa cosa posso accendere la luce del salone e spende la luce del salone così tutta casa insomma non vi voglio stare a annoiare troppo e ovviamente l'ho deciso io di tenere la tapparella in tutta aperta se la chiedo tutta è tutta chiusa oppure in questo caso preferisco che sia tutta aperta perché è più comodo ok io adesso stacco un attimo la città della camera ecco alla fine questo video a durare anche troppo io spero di avervi strappato una risata di aver passato con voi questo 31 in cui siamo obbligati a stare in casa spero quindi di avervi fatto trascorrere questi minuti insieme un po' in maniera leggera e allegra fatemi sapere cosa ne pensate la casa io a dire di questo telefono non saprei bene cosa dire perché effettivamente non è malissimo però non so se vale veramente come dicono tanti recensori passare da un not 9 a un not 20 ultra vediamo un po' il video mentre monterò il video magari mi sbaglio e niente ragazzi io vi auguro un buon fine 2020 e un grandissimo inizio per il 2021 e niente fatemi sapere nei commenti come vi sembra la casa e niente voglio fare un video un po' diverso per stare un po' insieme visto che piove da morire non potevo fare video di pattinaggio oppure magari monterò un altro video di pattiniosi oggi a caso ragazzi vi mando un abbraccione un bacione e vi auguro come ho già detto 850 miliardi di volte un buon 2021 e un buonissimo fine 2020 ciao